La fatturazione elettronica, insieme ad altri cambiamenti normativi, stanno portando l'amministrazione finanziaria ad evocare le competenze fiscali dei commercialisti. I professionisti temono una forte riduzione di attività e introiti, con ricadute negative non solo sulla categoria, ma anche sul sistema economico. È l'allarme lanciato nel corso del congresso dell'ANC, l'Associazione Nazionale Commercialisti, che si è svolta a Pesaro. Maria Vittoria Tonelli, consigliere di amministrazione della Cassa dei Ragionieri. I commercialisti italiani da Pesaro lanciano un allarme forte. Con l'inizio degli obblighi della fatturazione elettronica per i prossimi mesi e di tutti gli adempimenti che saranno connessi all'attivazione di questa nuova normativa, nuove disposizioni, i professionisti subiranno un danno sicuramente pesante e un disagio notevole. Procureranno, riteniamo, una riduzione fortissima degli introiti e degli studi professionali che, per forza di cose, porteranno irrimediabilmente a una riduzione di posti di lavoro. E la cosa sarà di grave danno anche e soprattutto alle imprese che questi assistono. Le dimensioni delle ricadute negative della fatturazione elettronica sulla categoria sono state calcolate con una serie di indagini condotte dall'Associazione, come spiega Marco Kuckel, presidente nazionale ANC. Si tratta di una statistica che noi abbiamo fatto sulle contabilità e sui dichiarativi, che è il core business di molti commercialisti. Circa 103.000 commercialisti si troveranno in grossa difficoltà se questa attività verrà estromessa dalla nostra categoria a favore di altri soggetti, in primis agenzie di entrate, ma anche altri soggetti, banche e quant'altro. La preoccupazione è di mettere in difficoltà 103.000 commercialisti che dovranno essere collocati, ma anche 160.000 dipendenti e collaboratori degli studi professionali. I commercialisti chiedono che la nuova normativa sia accompagnata da strumenti che rinforzino anziché debolire il ruolo di garanzia che i commercialisti hanno nei confronti degli apparati pubblici. Strumenti da affiancare subito, come nel caso dell'EcoCompenso. Luigi Pagliuca, presidente della Cassa Nazionale dei Ragionieri. I commercialisti italiani chiedono che venga riconosciuto loro il ruolo che da sempre svolgono, ovvero sia quello di garante nei confronti della pubblica amministrazione e del lavoro svolto dai propri clienti. È evidente che nel momento in cui si avvicina la fatturazione elettronica, riconoscere questa funzione è una garanzia sia per i propri clienti, ma soprattutto per lo Stato. Nessuna demonizzazione quindi della fattura elettronica in sé, ma forte richiesta di un'armonizzazione complessiva che salvaguardi occupazione e tutela del cittadino.